Spaggis Anzi, ci potrebbe una sorrellina? Benvenuta Giulie, sono Vicky, il tuo fratello maggiore Ah, che schifo la vita! Se Vicky ti parla due Mercoledì 20.40 R5 What do I really need? Verdi feste Finnus, un sorprendente incontro di verdure Chi è? Chi è? E' ancora chi è? Tu dai un colpo in testa a me E io do un bastancello in testa a me Calma, calma, ve li do io i bastancelli I bastancelli Finnus Squisite sorprese di piselli, carote, mais e patate Insaporite con formaggio in una fragrante panatura Bastancelli Finnus Finalmente la verdura divertente Un Kinder Cereale? Cioccolato? Grazie, ce l'ho anch'io Ma nel mio c'è di più, vedi? Certo, tanto latte, orzo, riso, mais, frumento Kinder Cereale, ricco di natura Ricco di bontà Solo lui è Lovable Ring Il fascino più comodo che c'è Per la seta Per il cashmere Per tutti i tuoi capi più preziosi Prezioso di Sofla Delicato Come le sostanze naturali da cui deriva Così Ogni lavaggio Si chiude in bellezza Prezioso di Sofla Sicurezza Trasparente Mettete la vostra prima colazione nelle mani di Doria Con Bucaneve Doria Siete in buone mani Chi è quello? Un pezzo grosso Da dove viene? Da Torino, credo Mi scusi Mi serve un PC IBM compatibile per questo Quale posso usare? Usi pure il mio? No Ho detto un PC Questo è un dischetto Windows Sì, che problema c'è? Non pensavo che Macintosh fosse un computer serio Così va meglio? Provate voi stessi Power Macintosh Con il vostro dischetto Windows Fino al 31 marzo Presso i rivenditori Apple Storia di Fonzis Storia di amici A chi di automobili se ne intende La nuova Opel Astra Station Wagon Climatic Ha molto da dire Ha persino il climatizzatore compreso nel prezzo In più ha tutto il fascino La tecnologia La sicurezza E le straordinarie prestazioni Della Station Wagon più ammirata d'Italia Opel Astra Station Wagon Climatic Sempre prima Sempre più un fenomeno Junior! Fantastica prima tv Benvenuti Benvenuti La piccola bestia Domani 20 e 40 Canale 5 Junior! Sono proprio scufato Ma fregato Secondo me è bastardo Sei convinto di dargli una lezione? Molto dura Tempi duri per i prepotenti Gli esigenti Gli invadenti Ma fai gli onori Oh voglio proprio godermi questa stangata Vittime d'Italia è l'ora della rivincita Lorella Cuccarini ed Enzo Iacchetti con la stangata Chi la fa Chi la fa L'aspetti Per darti 20 e 40 Canale 5 Ah questi spettacoli all'aperto Mamma mi hanno fatto vestire da ballerina La gente paga per vederti così Mamma ho delle bellissime gambe Ma dai Tu pensi sempre a far ridere gli altri Ma a te chi è che ti fa ridere? Toppicini Il sorriso che c'è in te Il sorriso che c'è in te Comprate una cucina Febban Fatevi regalare da Febban un forno Rex E gustatevi la qualità con il meraviglioso sapore del risparmio Fin dal mattino nella nostra famiglia si sceglie la freschezza Nel banco frigo ho scoperto una fresca novità Kinder Paradiso Soffice Come una torta appena fatta Kinder Paradiso Ha tutta la sofficità della torta paradiso Con in più un cuore di latte Conservata fresca Kinder Paradiso è così soffice Che in ogni momento della giornata Ti tratta in modo più dolce Delicato Trattati bene con Kinder Paradiso Fresca tutto il giorno Con il nuovo Carefree Comfort è ancora più confortevole Perché segue tutti i miei movimenti È davvero nuovo Carefree Comfort Soffice, sottile, anatomico Così aderente Che Diventa una cosa sola con la mia biancheria E io sento solo la freschezza Nuovo Carefree Comfort Che senti solo la freschezza Ehi, una merenda al latte La mamma non sa che c'è anche una merenda di latte Di latte? Certo Galbi Bontalatte Provate Galbi Bontalatte C'è l'80% di latte Buona frutta Calcio Proteine Naturalmente senza conservanti Buono! E Galbani Ma lei è un angelo Da oggi non solo merende al latte Ma Galbi La buona merenda di latte Ughetto Vieni qua Perché? Ti insegno a fare una torta Perché? Perché questa è la nuova pasta sfoglia Buitoni Fresche e pronta per l'uso Perché? Perché si è rotonda come il tuo faccino E non si attacca Perché? Abbiamo fatto proprio una buona torta, eh? Allora, te lo lasciamo ancora qualche giorno Perché? Buitoni Stanno bene a tavola E 30 E adesso io posso avere i regali di Buitoni fresco E via, oh Ma fai il... Bravo! Nuova opercorsa Amo la mia auto La mia auto mi ama Tutti i martedì alle 20 e 40 In diretta su Italia 1 Appuntamento con Re per una notte Un grande spettacolo dal cast straordinario In gara fra loro Le stelle della musica italiana e internazionale Che si contendono ai vostri voti Per diventare Re per una notte Non mancate Martedì alle 20 e 40 Su Italia 1 Finché un giorno arrivò lui E di colpo la musica cambiò Che bel cagnolino Beethoven In prima tv per il film E sì, Beethoven Domenica, 19 marzo Su Canale 5 Teste clinici dimostrano l'efficacia Nel neutralizzare gli acidi Di mentolent, bicarbonato di sodio e fluoro Il nuovo modo di combattere la carie Mi preparo la parte Me la studio tutta la notte Mi metto giacca, cravatta, pantaloni di vigogna Arrivo lì, bello come il sole Spacca il minuto Ma non vado a sbagliare i giorni Cosa vuoi di più dalla vita? Un lucano Amaro Lucano Voglio il meglio Agile, brillante, sicura Ecco il successo di Citroen ZX Brake La station wagon Compatta Ciao Chiara Ciao Ti piace la ginnastica? Eh sì, è la mia passione Senti, ma tu sei golosa? Beh sì Sì, non di tutto però Cioè? Per esempio Scopre sali, lucenti Sempre in splendida forma Non lo portiamo nella valle Minestrone alla valle degli orti L'amore per la terra dà solo buoni frutti Pentole tvs Le antiaderenti E adesso yogurt Parmalat Cremoso, naturale Ricco di fermenti vivi che ci fanno tanto bene Ci dà proteine, vitamine, sali minerali E costa solo 1980 lire Oggi c'è una novità a Parmalat Lo yogurt nel vasetto di vetro Pulito, sano, trasparente Yogurt Parmalat La qualità da oggi si vede E ti regala Sport Watch Gli orologi dello sport Da Parmalat Il mio caffè Naturalmente E' chivo Il latte, il pane Vabbè poi naturalmente Il magnum Mi mangio un magnum E la pioggia se ne va E tutto è molto più bello Adesso potete telefonarmi Suonarmi, citofonarmi Faxarmi Fare quello che volete Mi sto mangiando un magnum Il mio magnum L'altra volta ho avuto un incubo Era... Era finito Il magnum era finito Meno male che ci sono le confezioni da tre Anna e Clara sono perfettamente diverse Perché Anna ha scoperto fiori e piante di casa mia La nuovissima guida pratica per una splendida casa verde e fiorita In edicola la prima uscita con videocassetta Fabri Editori Facile con fiori e piante di casa mia Signora Guidi, perché ha cambiato per Dixan? Mi ha convinto mia cognata S'era dai nonni E Andrea Prima raccogliere olive Poi a tavola Alla fine L'era tutta una macchia Allora mia cognata mi dice Da retta a me Usa Dixan Perché Dixan è potenziato agli enzimi Gli enzimi sciolgono le macchie Così la forza lavante può darti un pulito da campione Guardi Guardi che pulito Un pulito perfetto Perché Dixan è il campione contro le macchie Capelli lisci Riccioli ribelli Onde sottili Capelli corti e frizzanti Lunghissimi e delicati Personal Biopoint Ha creato 13 programmi Per offrire a ogni tipo di capello Un trattamento personalizzato Personal Biopoint È solo in profumeria Ah E dov'è che vanno queste belle melanzane? La Giovanni Rana Ma chi? Quello dei tortellini? Ma sì lui Ma cosa c'entra le melanzane coi tortellini? Dai vieni qua fai vedere la bolla Eccolo Giovanni Rana Proprio quello dei tortellini Ma li avete mai assaggiati i suoi tortelli alle melanzane? Tortelli alle melanzane Sono quelli di Giovanni Rana Dai fiori di lavanda È nato Nuovo Mastrolindo Lavanda È un nuovo fresco profumo Una ventata di pulito Di splendore Di freschezza Freschezza che senti in tutta la casa Nuovo Mastrolindo Lavanda Lo splendore Ha un nuovo profumo Mi piace cucire Ma con fantasia Cucire con fantasia La bc del cucito passo dopo passo Tante idee da creare E un cartamodello in ogni uscita Mi piace Mi piace Cucire con fantasia In edicola la prima uscita con la scatola del cucito Fabri Editori Quando sono in crociera Una crociera costa Mi viene voglia di tutto Ho voglia di rilassarmi Prendere il sole Sulle navi costa ci si sente più belli C'è posto per la cultura E per un po' di avventura E senza spendere follie Ogni giorno si può scegliere fra mille cose E ogni notte Si viene una notte che se volete Non finisce mai Costa Crociere Navighiamo per divertirvi Pomodori maturi Basilico profumato Olio d'oliva di quello buono E una breve cottura Così è il sugo pronto barilla al basilico Molto stuzzicante Sugi barilla Semplici sapori mediterranei Chi? Cindy? Cindy chi? Richard E chi l'ha mai conosciuto? Chi? Ho sempre troppa fame Lo amo Se non mi toccasse sempre i capelli Camilla Potessi metterle le mani addosso Il volto umano e sorprendente delle celebrità Tutto su chi? Il nuovo settimanale Mondatori Chi? I protagonisti al naturale Chi? Fai scalaggia, fa Falla, Gennaro Falla per tua moglie Dalle questa gioia E pensi a creare un Chi la non aspetta un'altra? Allora faccio E caspita Cosa aspetti ad abbonarti? Dele più presenta Dieci giorni di gloria Di prima da Oscar senza pubblicità Di sfide esclusive Di emozioni indirette Dieci giorni pieni di novità Per i bambini Insomma Dieci indimenticabili giorni di gloria Ma questo è il negozio Lo dovevo tenere proprio a passare Il nuovo vernel vi sfida ad occhi chiusi Pronta? Certo Oggi il nuovo vernel è più cremoso Ed ha un profumo che dura più a lungo Che morbidezza E che buon profumo È il nuovo vernel E la differenza si sente Morbidezza e freschezza imbattibile Anche ad occhi chiusi Anna e Clara sono perfettamente diverse Perché Anna ha scoperto fiori e piante di casa mia La nuovissima guida pratica per una splendida casa verde e fiorita In edicola la prima uscita con videocassetta Fabri Editori Facile con fiori e piante di casa mia Faggis La moda La cultura L'immagine Lo stile del consumo Non solo moda Tra poco Canale 5 Il latte Il pane Vabbè poi naturalmente Il magnum Mi mangio un magnum E la pioggia se ne va E tutto è molto più bello Adesso potete telefonarmi, suonarmi, citofonarmi, faxarmi, fare quello che volete Mi sto mangiando un magnum Ah, il mio magnum L'altra volta ho avuto un incubo, era... E' finito Il magnum era finito Meno male che ci sono le confezioni da tre Il guai Hollywood è che tutti vogliono fare cinema Ehi, volete fare un film? Sì Avete proprio quello che serve Ston, facciamo i primi piani ora Con le attrici vere Dare a quelle due la 106 Preferisco morire No Bejo 106 Hollywood Finanziamenti fino a 10 milioni in 24 mesi a tasso zero Nella mente di uno psicopatico Si cela la chiave Di un delitto L'hai uccisa tu Cerca e troverai Sean Connery La giusta causa Nei cinema Anna e Clara sono perfettamente diverse Perché Anna ha scoperto fiori e piante di casa mia La nuovissima guida pratica per una splendida casa verde e fiorita In elicola la prima uscita con videocassetta Fabri Editori Facile, con fiori e piante di casa mia Per fortuna c'è la doccia multifunzioni Teuco Il massaggio plantare La sauna di vapore E il massaggio verticale In una doccia multifunzioni Teuco Ti danno sempre energia, dinamismo e relax Doccia multifunzioni Teuco Tutta la vita che vuoi Brown presenta il nuovo super volume Mentre asciuga i capelli Ne aumenta il volume Nuovo Brown super volume Volume immediato per i capelli lisci Ci sono cose di laguna Che scopri solo quando ci sei sopra Laguna Non solo per chi guida Capelli lisci Riccioli ribelli Onde sottili Capelli corti e frizzanti Lunghissimi e delicati Personal Biopoint Ha creato 13 programmi Per offrire a ogni tipo di capello Un trattamento personalizzato Personal Biopoint È solo in profumeria Non perdetevi questo numero di gioia Arriva la moda di primavera In bianco, rosa e fiori E lo chic a piccoli prezzi Cosa si perdono gli uomini questa settimana? Gioia Che donne Mi piace cucire Ma con fantasia Cucire con fantasia L'abc del cucito passo dopo passo Tante idee da creare E un cartamodello in ogni uscita Mi piace Mi piace Cucire con fantasia In edicola La prima uscita con la scatola del cucito Fabri Editori Conti esteri per 42 miliardi Un appartamento al centro di Roma Di strutturato con i soldi del SISTE Sono queste le ragioni che gli italiani Non devono conoscere Giuseppe Ferrara Denuncia la complicità tra SISTE Politica e alta finanza Due milioni Oppure due milioni Oppure due milioni Due milioni in optional Oppure due milioni per il vostro usato Con più di dieci anni Oppure due milioni di supervalutazione O ancora Dieci milioni in 48 mesi Al 6% di interesse Fino al 31 marzo Avete due milioni di motivi Per scegliere Y10 Marzo Y10 Due milioni per i tuoi desideri Oppure due milioni L'Italia ti va stretta Panorama ti regala il mondo Questa settimana Trovi la guida di New York E un bollino per ricevere Il regalo Il video di New York E San Francisco Le donne vogliono di più Vogliono grazia Questa settimana in esclusiva con grazia Il profumo Luciano Pavarotti Grazia è in edicola TG5 mezzasera Più spazio alle notizie L'approfondimento Nuovo appuntamento del TG5 Da domani alle 22.45 circa La nuova ora dell'informazione È su canale 5 TG5 mezzasera Qualcosa di più Signorino Ha sentito che quel referendum Vogliono togliere le pubblicità Dei film in tv? Ma va? Pensa che meraviglia Uno arriva la sera a casa tua E ci guardia un bel film in televisione Senza interruzione Bellissimo Ma... Ma cosa? Ma andò via Che? Senza pubblicità Le tv private Come fanno a campagna? Lo sanno tutti E allora? E allora niente Meno pubblicità Meno film Teribile In questi 15 anni Con Canale 5 Italia 1 E Rete 4 Hai vissuto le grandi emozioni Dei grandi film Meglio che ci siano Meglio poter scegliere Cari amici Tra poco a non solo moda Incontreremo Dolce Gabbana Gli stilisti che hanno diffuso La nostra cultura mediterranea Nella moda internazionale Per la regia Della loro campagna d'immagine Infatti hanno scelto Giuseppe Tornatore L'autore del film Oscar Nuovo Cinema Paradiso Al termine seguirà A tutto volume La superclassifica Del libro condotta Da Dario Bignardi E David Riondino Domani sera Invece alle 20.40 Il ciclo filmissimi Ci segnala Una prima visione tv Davvero divertente Piccola peste Con John Ritter E il piccolo Michael Oliver E ora guardiamo Non solo moda Arrivederci Faggis Mamma e papà Cercano urgentemente figlio Perché non ne adottiamo uno? Possibilmente buono Obediente Silenzioso E' così che vorrei Che fosse mio figlio Buono, obbediente e silenzioso Il meglio di lui E' un ragazzo adorabile Quello è un avanzo di galera Vivace Questo è il diavolo Ma no Mi manca solo un po' d'affetto E noi due faremo Tante belle cose insieme Io voglio veramente Essere un buon papà In prima tv Per i filmissimi La piccola peste Domani 20 e 40 Canale 5 All right, five minute break, boys Hey, boy What'd you do? I saved an angel Every day I'd see her I'd ring about me Busking me with her eyes But at night those same eyes The same eyes They'd cry They'd cry She only wanted to be free I couldn't take it anymore So I set her free So I set her free Do it again Bruciore di stomaco Digestivo Giuliani A base di Don Peridone Libera rapidamente lo stomaco Senza problemi È un medicinale Leggere attentamente il foglio illustrativo Se il sintomo persiste Consultare il medico Allora, la perpetua si sposa fra un mese L'oratorio va come va E te lo sai E oggi mi si è rotta anche la caldaia Che devo fare? Io non lo so Dimmelo te Don serei Eh? Fatti una bella vacanza Simo, Alpitura Torna Beato Parti Alpitura Contento? Alpitura Solo lui è Loveable Ring Il fascino più comodo che c'è Ricerche e test clinici Hanno provato la forza dei capelli Trattati con Bioscaline E infatti i Bioscaline Li rende più compatti E più belli Con Bioscaline Meno radicali liberi Più vita ai capelli Semplice Come bere un bicchier d'acqua Nuova ho percorsa Amo la mia auto La mia auto mi ama Quando uno ha mal di testa Ha un solo desiderio Che gli passi in un momento Moment 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 Contro il mal di testa Moment Da oggi è anche in gocce Facile da prendere Facile da dosare Lo trovi in farmacia Senza ricetta medica È un medicinale Può avere controindicazioni Ed effetti collaterali Leggere attentamente Il foglio illustrativo Moment E rapidamente di passa New York City I need a girl Walking downtown Superdreamer I want a girl Dressing the town Baby Superdreamer 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 Big Fiori Superdreamer Big Fiori Superdreamer Superdreamer Volume d'effetto Senza ferretto Dal laboratorio mobile Di ricerca Mentorant Scusi Già lavato i denti vero? Abbiamo testato Su alcune persone L'efficacia di Mentorant Con fluoro e bicarbonato di sodio Il dentifricio Che neutralizza gli acidi Una delle cause principali Della carie E ristabilisce il pH Della bocca Una sensazione Mai provata Dalla ricerca Mentorant Mentorant Bicarbonato di sodio E fluoro Il nuovo modo Di combattere la carie E per una migliore pulizia Anche tra dente e dente Mentorant Profile Lo spazzolino più in linea Con i tuoi denti Finché un giorno Arrivò lui E di colpo La musica Cambiò Che bel cagnolino Beethoven In prima tv Per i finissimi Beethoven Domenica 19 marzo Su canale C Come ti chiami? Leila E' bello? Leila Innamorata Leila felice Vorresti dargli tutto di te La virginità per i musulmani E' fondamentale Sei uno poco di buono Se la perdi Ma loro no Non devi Lui è diverso da te Non puoi Matite, carta, pelle E si buttano via Capito? Loro non sentono ragioni Sono maggiorelle Non hai il diritto Di farmi questo Ma tu sei così diversa Da loro Lasciatemi partire Lei Le ragioni del cuore Una prima tv Martedì 20 e 40 Canale 5 What do I really need? La virginità per i musulmani Per una corretta igiene orale, segui le regole, segui le regole. Oppure Tau Marine Magnum, lo spazzolino che rompe le regole. Tau Marine Magnum, istruzioni per l'uso? Nessuna.